La rucola della Piana del Sele è stata riconosciuta ufficialmente come IGP. L'indicazione geografica protetta certificata dalla Gazzetta Ufficiale comprende otto comuni dell'area corrispondente alla zona di produzione della rucola. Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Ponte Cagnano-Faiano, Giffoni-Valle Piana, Monte Corvino-Pugliano, Monte Corvino-Rovella e Capaccio-Pestum. La richiesta, che è stata vagliata dal Ministero per le Politiche Agricole e dalla Regione Campania, è stata presentata nei mesi scorsi dall'Associazione per la Valorizzazione della Rucola e di altri prodotti agricoli di quarta gamma della Valle del Sele. Un riconoscimento importante per le aziende del territorio, che annualmente producono circa 110.000 tonnellate di rucola, pari a circa il 65% del dato produttivo nazionale.